non è per le scale è un inciso ok mi ha lasciato una pazza qua qua sta solo uno andiamo insieme dov'è? sopra e sotto tra le scale e cipra sotto c'è il gas che è qua sopra? si qua qua con paragon è dentro è guarda bene è dentro è ragazzi questo è quello che ho preso prima io allora a chi fare? a chi fare? ho finito ho finito è stato dietro al muretto oh sopra 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 andiamo ragazzi qua qua salvarti non vedi non vedi ma sono scesi nooo sono scesi 37 l'ho traccato ok un altro porto non lo porto se me ti porto ah se non riesce faccio tu dove sei faccio ne uno dove uno non so come ci sono ragazzi non so capire eh lo eh lo si bravo 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 senti senti a camminare ho vissuto non è tim la terra ok sopra sopra so al primo piano ieri dove sono la strage ho fatto una strage non è tim eh si sta ancora sparando andiamo alla galleria andiamo alla galleria andiamo alla galleria ora punizioni se volete la cassa di munizioni mille mille delle cose dentro metri dentro metri io sono coperto qualcuno che mi resta si si ma venga subito, venga subito mi resta uno, mi resta uno e il fraccato arriva va colpite, colpite va bene va uno ucciso, uno ucciso colpetto, colpetto, colpetto arriva flashbang lanciato non ce l'ho capito ma poi io il problema dietro, le palle dietro le palle, le spalle dietro la la no, Riani, ma non si muore, si muore a destra, a destra vedete che era a destra, di fronte a voi di nuovo 2 occhio ok una terra via c'è il fullman ucciso raffa il culo scdio giusto, 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 venite qua dove chi mi resta? no Marcello, che di là, tranquillo l'avevi fatto? no non l'avevi fatto? morto avevo la mina il cazzo non l'avevo nientica non l'avevo con il gas si non l'avevo 3 squadre 3 di loro si 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 esistono dietro mi sparano uno crattatissimo davanti a me si è qui 32 sinistra sinistra guarda ci sono io ragazzi fateli 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 una terra non a terra che cosa va abbata che sono fatti che siete ma sono cazzo e con calma ne restano soltanto sti grazie c'è 7 ma non moriamo ma dov'è che si esce vieni qua non uscire non uscire vieni qua vieni da noi che noi che noi a favore nostro esatto ora devono venire l'anno verso di voi con calma 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 ragazzi io ho pensato che io ho pure il bombardamento quindi lei è bombardamento di destra qualcuno ragazzi 4 4 ci sono sempre in sé tre tim e non è un'intera migliore in intera migliore sono in testi si 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 sposta due team 11 12 22 22 ok fatemi sentire solo l'audio per favore perché se non si Qualcuno che esce pure col gas Sopra, sopra di noi sono Sì, sul tetto sono Io sono fermo Uno può andare sotto il ponte Eccoli qua Vai 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 All'ultimo mi sono buttato addosso a quelli Perché erano in tre, uno era draccatissimo Uno lo buttato a terra, quello si stava corazzando Vabbè, vabbè, la rischio così almeno mentre ci liberiamo la galleria Bella raga Bella, bella, bella Vediamo che l'obb era Sto vado a Fundo Man Night E' anche per te la vita No, ora ho un figlio solo che lo faccio Bella, bella, bella Vabbè, 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 vabbè Grazie a tutti Ciao 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 Ciao